Il primo maggio 2023 sarà ricordata come la data in cui gli italiani dicono addio alle mascherine anche in alcuni ambienti sanitari, ma non tutti. Rimarrà infatti in vigore l'uso della mascherina in tutte le aree in cui si trovano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Sulla base dunque delle indicazioni del Ministero della Salute, la mascherina dovrà ancora essere indossata in tutte le aree covid, in pronto soccorso, in rianimazione, in terapia intensiva, nelle attività di emergenza e urgenza, nei reparti e attività ambulatoriali di geriatria, pneumologia, oncologia, ematologia, radioterapia e RSA. In tutti gli altri ambienti, in presenza comunque di pazienti fragili con febbre o sintomatologia respiratoria, l'uso della mascherina è fortemente consigliato. Le mascherine hanno rappresentato un importante dispositivo di protezione individuale, non solo per il covid ma anche per le malattie aereotrasmesse. Anche riguardi gli scenari di influenza abbiamo avuto sicuramente una riduzione del numero degli episodi influenzali quando eravamo protetti da mascherina. Per gli ambulatori medici la decisione sull'utilizzo resta ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta.